Benvenuti ragazzi a questa video lezione sulla tecnica sanguigna. Allora, una cosa importante da ricordare, anche avendo visto i vostri elaborati, è che lo scopo della tecnica sanguigna è quella di concentrarsi maggiormente sul chiaroscuro. Come ho detto, la sanguigna, come tutte le crete, hanno una morbidezza che può donare al chiaroscuro una maggiore omogenità, una maggiore sfumatura rispetto magari alle matite, ecco perché viene utilizzata maggiormente nella figura umana, nel corpo umano. Allora, qui c'è un disegno che ho fatto nel periodo della scuola, non è un disegno di adesso, e il concetto è quello di sì strutturare bene la forma, cercare il più possibile di fare il disegno fatto bene, ma anche restituire con questo tipo di segno, con questo tipo di chiaroscuro, vedete, molto soffuso, ecco, in maniera veramente molto soffusa, tutte le sfumature, cioè il vostro segno a matita deve essere così, cioè non deve essere buttato in maniera molto, come dire, informale, ma deve essere veramente un disegno curato in modo che il chiaroscuro abbia le tre caratteristiche fondamentali, cioè il chiaro, il medio, ovviamente qui è un video non si riescono a percepire tutti i valori, comunque il chiaro, il medio e l'oscuro, fino all'oscurissimo, ok? Allora, questo è per quanto riguarda il chiaroscuro. Poi è anche vero che quali sono le fasi principali? Le fasi principali sono ecco, lo studio molto veloce, questo è di un altro disegno, però vedete il segno che va a costruire la forma anche con delle semplici delle semplici linee strutturali. Qui poi dopo si va a creare un minimo di chiaroscuro, però l'importante è che all'inizio la forma sia azzeccata. Ad esempio, nella nostra figura in questa di Michelangelo che ho fatto vedere prima, prima di fare, prima di arrivare alla definizione, ecco, abbiamo la struttura. Quindi, cercare di capire, punto numero uno, posizione della testa. Quindi, questa è la sua inclinazione rispetto, vi ricordate, alla linea centrale. Questa è la linea centrale che divide il foglio in croce. Da lì, io dico, questa è l'inclinazione della testa. Dove guarda? Sta guardando in questa direzione, rispetto alla linea della croce. ok? Quindi, queste sono le linee della croce verticale e orizzontale. Questa è la linea obliqua di dove guarda il nostro soggetto. Questa è la posizione della testa. E da lì, io vado poi a costruire magari inizialmente con delle linee molto schematiche e poi ricordatevi sempre di ammorbidire queste forme perché la figura umana è morbida, non è fatta da linee dure. Ricordatevi un'altra cosa che la testa ha una sua dimensione dagli occhi alle orecchie soprattutto se questa è la posizione tutto gira, non è dritto quindi si costruisce tutto tramite delle linee curve che girano attorno alla testa. e tutto il resto viene di conseguenza perché poi dopo la definizione è l'ultima fase che deve come dire richiedere anche una certa meticolosità un certo tempo non si può buttare tutto così potete anche disegnare vedete su carta ingiallita questa è proprio carta gialla però se vi volete anche divertire potete questo è un disegno molto vecchio di quando proprio ero ragazzo ma vedete si può sempre riprendere e disegnare e avevo ingiallito la carta con del tè o del caffè e il risultato è sempre carino con la tecnica sanguigna anche perché in alcuni casi potete anche intervenire con la matita bianca con il gessetto per dare le lumeggiature un'altra cosa per chi in questi giorni non riesce a comprare la sanguigna potete utilizzare anche matite colorate ok ho preso classica matite colorate stabilo rosso o marroncino e potete ecco utilizzarle come come se fossero delle sanguine perché alla fine la consistenza diciamo della sua della sfumatura è molto simile molto simile cioè non è uguale però è molto simile quindi in assenza di una sanguigna non lo fate a matita ma fatelo con i colori con le matite colorate con queste matite colorate quelle che vanno dal rosso al marroncino ok allora seguirà poi dopo su sulla piattaforma Moodle il disegno vi metterò vi allegherò il disegno da da fare per la per la settimana prossima grazie per l'attenzione a questa video lezione sulla tecnica sanguigna grazie per l'attenzione